La Lega come movimento aderisce convintamente e compattamente a questo comitato. La Lega ha votato tanto al Senato quanto alla Camera, ha votato contro, in maniera compatta e coerente, contro il disegno di legge. Noi crediamo che il disegno di legge approvato ieri rappresenti un colpo mortale alla famiglia tradizionale, alla famiglia fatta da un papà, da una mamma e da dei figli, non da un genitore 1 o da un genitore 2. La Lega ha sempre detto sì al dibattito e alla discussione sui diritti e sui diritti individuali, non ci saremmo mai sottratti a un dibattito sui diritti, no ai matrimoni omosessuali, no all'adozione omosessuale, no all'utero in affitto che è una pratica, rappresenta una pratica che lede la dignità e la libertà della donna. Chiudo dicendo che il voto di ieri non rappresenta, a nostro avviso, la maggioranza dei cittadini italiani, è uno spaccato ma non la rappresentanza complessiva dei cittadini italiani ed è per questo che una legge che va ad incidere in modo pesante e prepotente anche nei modi e nei metodi in cui è stata approvata sulla nostra società complessiva e sulla nostra famiglia meriti di essere sottoposta al giudizio e alla volontà popolare. E questa è la motivazione per cui noi aderiamo, ripeto, convintamente e faremo ovviamente la nostra parte per sostenere il comitato e il referendum promotore di questo comitato.